ciao a tutti e benvenuti sul mio canale sono usciti quattro nuovi liquid love la macchina che mi è arrivata la mail intorno alle otto e mezza io alle 9 avevo già fatto il mio ordine quando ho ordinato io era tutto disponibile compreso il bundle con tutti e quattro le colorazioni il pacchetto mi è arrivato in un paio di giorni piuttosto celermente nonostante il volume di spedizioni che hanno al lancio dei nuovi prodotti mi dispiace che non ci siano stati prodotti per tutti e molte ragazze siano rimaste siano rimaste senza la cosa un po un po mi è dispiaciuta e perché bisogna essere non veloci di più forse dovrebbero tener conto del fatto che i prodotti di cleo vadano così a ruba molto carina la scatola esteticamente esternamente anzi bianca si apre e c'è la scritta cleo makeup shop punto com e mi piace molto le colorazioni e l'accuratezza del dell'impacchettamento veramente molto carina questa scatolina e mi sembra che non sia stata cambiata rispetto a quella dell'altra volta i prodotti che ho acquistato e sono stati incartati veramente molto molto bene e sono rimasta piacevolmente sorpresa nel trovare nella mia scatola due degli adesivi che avevo visto mandare alle varie influenze siccome io sono un amante dei gatti ne ho ben due a bimbo e tiffany ricevere questo adesivo è stata veramente una cosa che mi ha mi è piaciuta tantissimo e non pensavo che le mandassero anche a noi comuni mortali diciamo e me ne hanno mandati due tutti e due veramente molto carini non credo che li attaccherò mai da nessuna parte probabilmente li utilizzerò come segnalibro mi sono piaciuti veramente veramente tantissimo ed è stata veramente una cosa molto molto bella perché di solito diciamo che vengono coccolate non vengono molto coccolate le clienti ed è una cosa che di solito insomma non non è molto piacevole allora io questa volta ho deciso di approfittare del fatto che cerco sempre di non pagare le spese di spedizione e quindi ho approfittato per prendere una palettina di quelle componibili my first love piccolina gli ombretti di io sono ottimi e tre delle nuove tinte no tre dei quattro nuovi rossetti liquidi usciti la scatolina è uguale alle altre non ci sono cambiamenti sempre veramente molto carine curate mi piacciono molto queste scatoline quello che mi è piaciuto tanto di queste nuove proposte che sono proprio le colorazioni nelle mie corde quindi sono stata molto contenta di acquistarli qui c'è la frase di io come in tutte le le altre liquid love e la prima colorazione che ho deciso di prendere io è Dalia la quarta colorazione che non ho preso è un tendente un po' sull'arancio che diciamo non non penso che mi possa star bene quindi ho deciso di non prenderlo e Dalia me l'aspettavo più chiara sinceramente invece è un po' più scura di quanto io pensassi ma è veramente bellissima ed è un po' più chiara da quella più fucsia già uscita coprente subito alla prima passata omogenea veramente bellissima la formula di questi liquid love diciamo che un pochino non sono i miei rossetti liquidi proprio preferiti in assoluto perché un pochino dopo qualche ora dall'indosso tendono un pochino a seccarmi le labbra però le colorazioni sono stupende comunque anche quando vanno via vanno via in modo non brutto non crepano le labbra non non le rinsecchiscono neanche come fanno molti rossetti liquidi questi diciamo che non mi dispiacciono ma dopo diverse ore un pochino mi seccano le labbra infatti io di Clio diciamo che preferisco i rossetti in bullet diciamo i rossetti tradizionali però questi hanno delle colorazioni veramente stupende anche questo veramente molto molto bello e li trovo perfetti per questa stagione questo è olala ed è quello che mi ha mi ha colpito di più io amo molto i rossetti tendenzialmente sul sul rosa e penso che mi stiano anche molto molto bene e questo è un rossetto nude veramente bellissimo che secondo me mi sta molto bene ed è un rossetto da veramente da tutti i giorni e tutti e tre questi rossetti sinceramente me li aspettavo un pochino diversi rispetto a quello che ho visto online e su di me cioè visti dal vivo li trovo un pochino più scuri di quanto mi aspettassi sinceramente però sono comunque bellissimi e secondo me anche di questi rossetti non c'è bisogno neanche di mettere troppo prodotto si stendono veramente molto bene ed è facile seguire le labbra non c'è neanche bisogno della matita sono secondo me ottimi rossetti e questa è una delle palettine my first love che tanto che volevo prendere però non mi andava di pagare le spese di spedizione quindi ho approfittato con l'acquisto dei tre nuovi rossetti liquidi per prendere una di queste palettine che viene data in omaggio con l'acquisto di quattro ombretti e ho preso i quattro ombretti che mi avevano colpito immediatamente e ne ho presi due matt e due diciamo satinati metallizzati no forse satinati e la palettina è veramente deliziosa mi piace il fatto che ci sia lo specchietto io ho anche la first love la palette quella grande che è stupenda però quella non ha il rossetto questo è treasure si un rossetto un ombretto che mi aveva colpito veramente tantissimo e quindi l'ho preso veramente molto molto belli questi ombretti visti dal vivo più belli che non online e questo è un altro mi piace anche molto come vengono spediti sinceramente questo è uno di quelli matt molto molto bello e l'ultimo è bellissimo anche questo mi è piaciuto proprio tanto questo è royal anche questo mi incuriosiva tanto e quindi ho deciso di prenderlo ci ho messo due secondi a scegliere perché ho preso proprio quelli che mi avevano colpito di più e mi piace molto questa palettina come è venuta composta poi è piccola e anche facile da mettere in un beauty e poi anche gli ombretti della first love possono essere tolti e quindi posso sfruttare anche diverse combinazioni se voglio portarmi in giro solo questa palettina scrivenza devo dire ottima si sfumano anche veramente molto 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 bene secondo me è un'idea veramente ottima questa delle ricariche le nuove colorazioni si possono mischiare veramente molto molto bene e poi diciamo che le colorazioni che ho scelto si possono sfruttare molto bene anche con la first love sono veramente molto belli molto scriventi si sfumano sono ottimi questi ombretti veramente ottimi ecco le colorazioni dei rossetti non sono proprio così simili a come si vedono sul sito anzi dall'immagine sembrano anche un po' più cioè dal vivo sembrano anche un po' più più scuri però comunque sono sul rosa e dal momento in cui sono suocciati a quando asciugano asciugano leggermente e si scuriscono leggermente asciugandosi però comunque restano veramente bellissimi i colori e secondo me valgono la pena quello che non ho preso ASAP ASAP mi sembra che si chiami è tendenzialmente sull'arancio non penso che mi stesse bene quindi ho deciso di non prenderlo insomma quindi io da amante dei gatti ho apprezzato veramente tantissimo l'omaggio degli adesivi un piccolo gesto che secondo me fa veramente molto molto piacere insomma grazie a tutti per aver visto questo video anche se non è venuto proprio benissimo come avrei voluto però ho deciso di pubblicarlo lo stesso grazie a tutti e al prossimo video ciao